Buongiorno. L'8 aprile doveva essere una mattina dedicata alla riflessione a un anno di distanza dall'apertura dei nostri tavoli di lavoro sul sistema museale regionale. Sarebbe stata una grande occasione di incontro dopo un lavoro fatto veramente assai intenso che sarebbe stata aperta dal nuovo assessore Mauro Filicori al quale naturalmente vanno gli auguri di buon lavoro da parte di tutti noi. Ebbene, noi non vogliamo come Istituto dei Vini Culturali lasciar trascorrere questa giornata in vano e vi presentiamo, presentiamo a tutti gli addetti, a coloro che hanno partecipato ma anche al pubblico in generale, le prime riflessioni tratte da questi tavoli di lavoro che hanno visto il coinvolgimento di quasi 200 strutture museali della nostra regione e la partecipazione di oltre 200 fra curatori, addetti a vario titolo, comunque appartenenti al mondo del patrimonio. Si tratta di un'operazione che è stata condotta attraverso la facilitazione e la struttura discorsiva predisposta dalla Fondazione Piscarraldo che ha cercato di mettere insieme in incontri sul territorio, ne abbiamo fatti in ogni provincia della regione Emilia-Romagna, quelli che erano i macrotemi funzionali non solo alla definizione dei livelli uniformi di qualità ma anche alla definizione di possibili ulteriori passi avanti che il nostro sistema regionale, utilizzando naturalmente la mediazione dell'istituto, può fare. Si è trattata di una operazione che non avveniva da molto tempo e l'occasione che è stata proposta dal sistema museale nazionale, dalla partenza di questo grande cantiere, noi abbiamo cercato di coglierla e di declinarla per meglio conoscerci e conoscere la regione e le multiformi realtà regionali che la abitano. Il risultato, come vedrete, è molto interessante. Anzitutto, parto dalla fine, vengono fuori alcuni grandi temi, quelli che abbiamo cercato di sviluppare nel dibattito, gli elementi di materialità, i valori identitari che naturalmente cercano di essere, intendono essere trattati soprattutto a livello di territorio. Il coordinamento e l'organizzazione del processo, che viceversa tutta la regione vorrebbe fosse fatto più al centro. E poi lo sviluppo delle competenze, un altro grande settore nel quale l'istituto ha avuto un ruolo nel corso del tempo e che deve tornare ad avere. La formazione, naturalmente, la valorizzazione territoriale invece viene considerata un elemento più appannaggio delle singole realtà, perché ognuna poi la declina in qualche modo a modo suo e poi abbiamo alcune azioni di sistema, come la comunicazione, la segnaletica e servizi informativi, che vorrebbero essere trattati a un livello più centrale. Insomma, abbiamo una geografia multiforme delle azioni che finalmente adesso riusciamo a leggere in maniera coerente. Come vedremo, abbiamo anche una geografia delle domande. Non tutte sono state elaborate sul territorio nella stessa maniera. Esse fanno riferimento a delle realtà, delle strutture, anche dell'organizzazione culturale, che nel nostro territorio regionale sono ovviamente diverse. E anche questo è un elemento, secondo me, di ricchezza del nostro sistema che va debitamente valorizzato, anche in funzione e in considerazione dell'offerta turistica e non solo di quella culturale. Che cosa vorremmo fare a questo punto? Beh, anzitutto, visto e considerato che questa marea di dati che stiamo raccogliendo funziona, nel senso che è leggibile, vorremmo continuare a implementarla, capire meglio, per esempio, come si sono strutturate, se esistono ancora, come sopravvivono le reti di attività e di musei che esistono nelle nostre varie province. E poi pensiamo che sarebbe utile una cabina di regia fra le strutture, le organizzazioni, le istituzioni che in qualche modo sono interessate al patrimonio a livello regionale, non solo locale. Naturalmente penso alla direzione musei dell'Emilia-Romagna, del MIBACT, alla conferenza episcopale dell'Emilia-Romagna, all'ufficio beni culturali ecclesiastici, naturalmente l'ANCI, Emilia-Romagna, l'ICOM, Emilia-Romagna e in futuro pensiamo anche alla struttura delle fondazioni, l'organizzazione delle fondazioni bancarie. Ecco, sarebbe interessante mettere insieme intanto un luogo di stakeholder e di attori che potrebbero diventare un utile momento di riflessione nella relazione col territorio. E poi naturalmente ci sono da implementare il look, andare sempre più nel dettaglio, perché vedete, ce lo siamo detti più volte e qui lo ripetiamo, il sistema museale nazionale non può essere semplicemente una piattaforma, una piattaforma di informazioni e di accreditamento, deve essere una grande occasione di conoscenza, di crescita e di azione soprattutto. E siccome le risorse, come sappiamo, sono limitate e in me nel futuro lo saranno ancora di più, l'esigenza di declinare l'uso di queste risorse nella maniera più efficiente ed efficace possibile è naturalmente un dovere per tutti coloro che amministrano beni pubblici. Ed è quello che intendiamo fare prossimamente. Quindi nonostante il coronavirus, le occasioni di implementazione non mancheranno, continueremo ad andare avanti, abbiamo visto che questo desiderio c'è da parte di tutti, con l'obiettivo naturalmente di ritrovarci il prima possibile per incontrarci, stringerci la mano e parlare liberamente, in un mondo più sereno di quello di oggi, dei nostri grandi problemi e del nostro grande patrimonio culturale. Grazie a voi davvero per l'attenzione e buona lettura.